Un gruppo musicale italiano vincitore della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi che li ha portati ad un successo immediato e negli ultimi anni tanti dischi d'oro, di Platino, la partecipazione a numerosi festival, grandi riconoscimenti, grandi artisti nel panorama musicale italiano con cui sono state fatte delle collaborazioni. Abbiamo l'onore di avere qui con noi i The Colors! Ciao ragazzi! Ciao, ciao! Ciao, 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 ciao! Mi imbarazzano sempre un po' queste presentazioni? Eh, troppo! Ma sì, mandiamo un po' di lustro, è giusto così, è giusto così. Ma è che non ci pensiamo a quelle cose, perché poi non si è più naturale. No, no, è solo per introdurvi, adesso parto con le domande. Troviamo quelle divertenti. Esatto, adesso arriva la parte vera. Non so, comincio a... no, no, assolutamente no, perché non ve lo meritate. Allora, nel 2022 siete tornati in bomba con i live, anche e soprattutto dopo lo stop, insomma, della situazione sanitaria negli ultimi anni, quindi io volevo chiedervi un po' quella che è la vostra percezione sul palco, quindi anche dopo tanto tempo finalmente tornare ad esibirsi davanti al pubblico penso sia un'emozione grande, quindi... Beh, quello sicuramente hai già dato anche tu un po' la risposta, tornare davanti al pubblico a pieno regime è veramente... è stata una... abbiamo provato una sensazione veramente di liberazione, perché per la musica, sai, è stato un periodo un po' paragonabile al medioevo quasi, perché per lo spettacolo in generale, non solo per la musica, perché se togli la possibilità di vivere un concerto, purtroppo non è la stessa cosa. Noi abbiamo fatto nel 2021 anche un tour con i limiti... le regole che c'erano in quell'anno lì e c'era un limite di mille persone con le mascherine e tutto quanto, sai, è un attimo pensare sono concerti brutti, in realtà no, in realtà no, perché sono concerti che ci ricorderemo sicuramente a vita, di cui ci ricorderemo a vita, e poi erano appunto unici, perché si creava una specie di intimità addirittura maggiore, superiore rispetto al concertone davanti a migliaia di persone. Sì, anche perché sono persone che vi seguono nonostante tutto a posta per partecipare, insomma... quello era proprio un gesto che ci mostrava proprio tanto affetto da parte dei fan e però ovviamente se lo paragoniamo al tour di quest'anno in cui abbiamo fatto più di 65 concerti, più di 60 e passa concerti pieni di gente, è sicuramente un altro tipo di emozione, quell'anno lì ce lo ricorderemo ma faremmo tranquillamente a meno di ricordare tutto il contorno. Penso tutti, però infatti è proprio per questo che ho fatto anche la grande presentazione, cioè nel senso in un anno tutti questi concerti, tutte queste persone, insomma le vostre canzoni sono irresistibili, è impossibile non cantarle, non ballarle, sempre una botta di energia pazzesca. Senti invece parliamo un attimo, facciamoci un po' gli affaracci tuoi, la vita privata, conciliare la vita da pop rock star con la vita privata, adesso padre per due volte. Ma ragazzi è la cosa più rock and roll essere papà, ti giuro, è proprio... Bellissimo. Allora, non dormi, rock and roller totale non deve dormire di notte, poi comunque stai sempre, vivi sempre momenti di leggerezza e il rock and roller per antonomasia è proprio quello che se ne frega di tutte le cose serie così, cioè fare il papà è proprio rock and roll totale, quindi mi sento bene, mi sento a posto, non ho subito nessun tipo di cambiamento strano, soprattutto dal punto di vista musicale, anzi paradossalmente avendo dei ritmi seppur folli ma regolari, riesco a organizzarmi meglio pure nella scrittura. Conciliare tutto. Invece voi ragazzi, vita da rock star di questo tipo? Per il tempo, quest'anno ci provo e... Stella, quest'anno preparati. Noi prendiamo tutta la sua esperienza, quindi sappiamo già cosa dobbiamo fare. Ok, ci è passato lui, ce la possiamo fare anche noi. No, no. Esatto.